Buongiorno a tutti dal vostro grande Capitano Napoli, benvenuti in questo nuovo video con solita rubrica oggi pronostiti Champions League delle partite di mercoledì. Alle ore 18.55 si gioca Zenti, San Pietroburgo, Lione, lo Zenit è terzo, il Lione è secondo, hanno esattamente di differenza tre punti, partita disperata per lo Zenit per vincere e poi sperare nel miracolo ad l'ultima giornata ed per questa partita io pronostico Zenit, Lione, uno, over. Valencia, Chelsea, per questa partita prevedo over, Liverpool, Napoli, over, Genk, Salzburgo, under, Lipsia contro Benfica, per questa partita prevedo uno, Lipsia, Benfica, uno, Barcellona contro il Borussia Dortmund, uno, Lille, Ajax, due e Slavia, Praga, Inter, due. Mettete un bel like a questo video, chi non sei ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, una buona giornata nel vostro grande Capitan Napoli, ciao a io.